è ufficiale Marlon va allo Shakhtar Donuts per 12 milioni più bonus beh come già già avevo detto nella mia calcio mercato che farebbe il sassuolo anche io l'avrei dato via è vero che lui comunque è un uomo spogliatoio perché comunque ride scherza con tutti fa i balletti eccetera poi nelle varie presentazioni anno dopo anno comunque ci ha sempre fatto un po' divertire come calciatore ha fatto bene perché bisogna dire che ha fatto bene soltanto che come difensore ogni tanto si perde l'uomo come ogni difensore qualcosa che lui diciamo che forse lo fa un po' spesso questa cosa quindi forse su questo visto che lui ancora è giovane quindi quindi potrebbe ancora migliorare con De Zerb appunto che ritrova allo Shakhtar visto che poi c'è anche una stima reciproca fra i due scusate tra i due c'è molta stima quindi può essere per questo che comunque De Zerb ha detto visto che non posso comprare tutta la serie A che era quello il suo scopo quindi a meno prendo il giocatore che più mi rappresenta e in questa casa diciamo che è proprio Marlon anche se sinceramente io una cosa personale che comunque l'avevo già detto in scorsi video non so perché ma io ero più come centrocampista che come difensore perché comunque i piedi buoni ce li ha guardiamo il gol che ha fatto quest'anno il gol ha fatto e poi e poi comunque guardiamo anche il gol di Raspadori contro l'Inter da chi è iniziato da Marlon quindi comunque vuol dire che i piedi buoni lui ce li ha quindi io per questo che la proverei ad avanzare a Marlon magari magari l'ho chiesto e ha detto no no te devi fare i difensori eccetera però come difensori diciamo che c'è un po' tante pecche quindi è per questo che io comunque sono d'accordo con la società di vendolo qualcosa che dovemo assolutissimamente ora comunque andare sul mercato e prendere un difensore perché ci abbiamo due che rientrano degli infortuni cioè a Jean che sembra anche lui che molto molto facilmente se ne dovrà andare sentito in questi vari giorni Garata Zarai e gli altri club che sono molto interessati a lui eccetera quindi molto facilmente ci lascerà io ovviamente spero di no perché dopo una stagione così è stata la sua prima stagione con il Sassuolo non so mi sbaglio dopo è stata piena di infortuni e poi te comunque lo vai a vendere subito vabbè poi questo qua sono discorsi che dovremmo fare quando ci sarà l'ufficialità sempre se ci sarà poi comunque comunque c'è Romagna che anche lui rientra dall'infortunio quindi anche lui è da valutare vabbè Peluso ormai praticamente si ritirerà con noi quindi quindi è un po' così e poi ci sono Kiriches che comunque anche lui ogni tanto c'ha i suoi infortuni che arrivano spesso però che comunque è fondamentale che sia chiaro Kiriches è un difensore che a me comunque piace molto e poi c'è Ferrari che diciamo che è quello più sano tra i difensori centrali di Sassuolo ed è per questo che praticamente mentre gioco ed è per questo che lo scorso anno comunque giocavano tutte o quasi Ferrari e Marlon quindi ora comunque ci viene a mancare Marlon quindi dovremo sicuramente andare a investire sul mercato per un difensore poi e poi si vedrà se ci saranno altre cessioni di altri difensori però io intanto fare questo magari voi qui sotto i commenti ditemi cosa ne pensate di questa cessione di Marlon e niente ci vediamo al prossimo video forza su soli forza azzurri e ciao